Credo che tutti i festivali qui hanno il label EFE, o quasi tutti. Siamo molto felici che l'Italia Festival ha fatto l'initiative di portarvi tutti qui in Roma. Non è solo importante che ci rendiamo connessioni internazionali, ma anche che le connessioni nazionali sono molto importanti, credo. Penso che ci siano molti dei festivali in sala che hanno ricevuto il label EFE. E' importante avere un momento di incontro non solo a livello europeo, ma anche a livello italiano. Io vorrei anche introdurre un po' le prossime attività nel progetto EFE. Nel primo anno ci siamo realmente concentrati sull'obiettivo di portare insieme i professionisti per creare una comunità reale festivale. Nel secondo anno il focus sarà sulla promozione dei festivali. Le due prossime attività saranno concentrati il primo anno sul riunire e far discutere dei professionisti di festival e il secondo anno invece più concentrato sulla promozione dei festivali. Quindi vogliamo sviluppare il sito di EFE che è chiamato EFE.eu in un portale reale per i festivali. Vogliamo ottimizzare l'engine di search per diventare un portale dove i cittadini possono trovare informazioni sui festivali. uno degli obiettivi è anche implementare e migliorare il sito del progetto che è EFE.eu e farlo diventare un vero strumento di lavoro per i festival e renderlo più accessibile. non solo il portale deve essere sviluppato ma anche i narrativi dietro i festivali sono molto importanti per noi per dare storie curate su questi festivali per guidare i visitatori dei festivali europei per l'offerta che è lì per questa grande diversità che puoi vedere nel film che era giusto qui. e per guidare anche gli utenti del sito attraverso il mondo dei festival così diversi e così ricchi come potete vedere avete potuto vedere anche dal progetto EFE. E anche, ovviamente, i festivali sono un strumento interessante per il turismo quindi può diventare in futuro un strumento che dà informazioni ai turisti dei festivali su una scala molto grande internazionale ma penso che nel primo caso dobbiamo concentrarsi sul contenuto che è lì nella plataforma e che è creato dal lavoro di tutti questi festivali. molto importante un ruolo turistico. è 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 un ruolo turistico.